Una sconfitta pesante come il terreno del Marcello Melani, quella degli Arancioni contro il Seravezza, valido per il 32esimo turno di Coppa Italia. Sotto la pioggia abbattente, gli omni di Consonni cadono per 3-0 contro i Lucchesi, formazione che naviga nelle zone basse del girone E del campionato di Serie D. Vero che gli Arancioni hanno giocato in formazione molto rimaneggiata, ma è anche vero che in vista del derby contro l'Aglianese, una prestazione di altro livello avrebbe consentito alla squadra di acquisire fiducia dopo la vittoria a Salso Maggiore, senza dimenticare che nei sedicesimi avrebbero potuto affrontare nuovamente il Prato in un derby mai banale. E invece la squadra ne è uscita nuovamente ridimensionata in una giornata a grigia con 265 tifosi sugli spalti. Ma è stata una partita strana dove i primi 20-25 minuti fino al primo gol loro abbiamo fatto poco, facevamo fatica a uscire sulle loro giocate, sui loro uomini, che si muovivano molto bene anche tra le linee. Dopo il gol subito paradossalmente ci siamo un po' svegliati, abbiamo cambiato marcia e secondo me la seconda parte del primo tempo abbiamo creato, abbiamo fatto bene, abbiamo giocato, li abbiamo chiusi, siamo arrivati due volte al tiro con Benassi che è un difensore centrale. Ma quello che mi preoccupa è sicuramente l'atteggiamento, se io guardo l'atteggiamento di stasera non posso paragonarlo a quello di Salso. A Salso Maggiore abbiamo avuto un atteggiamento con la voglia giusta, la cattiveria giusta, il soffrire tutti insieme. Quando c'era da soffrire stasera non abbiamo fatto tutto questo, stasera non eravamo squadra. Nonostante le uniche due note positive sono magri e malpaganti.